BATTAGLIONE ALT! Ripa! Sargenti a mangiare guaglia! Comanzi che... Cosa avete fatto il battaglione? Dove l'avete messo? Si è disperso lungo la strada. Come si è venuto a dire disperso? Signor colonnello, quelli sono giovanotti e durante le nostre occupazioni hanno trovato le donne spitali e si sono accasati nelle carri. Ma è impossibile, dico io, ma è impossibile, e dico io che tutti gli italiani devono essere così. Casalinghi a fondo falai! Appena vedono una donna ospitale si accasano nelle case. Bravo, Sargenti. Grazie. Siete stato l'unico che avete seguito il vostro colonnello. Ma io sono accasato più in là, signor colonnello. Tu queco! Anche voi! Anche voi! Ma come posso fare io più un ingresso trionfale nel paese occupato? Questo non è un esercito di occupazione, ma è un esercito di disoccupazione. Ma dico io, la vogliamo fare questa guerra? Però non la vogliamo fare. Se non la vogliamo fare, ditemelo. Io scrivo a Mussolini e ci veniamo a casa. Va bene? Va bene? Uffa! Beh, sembra di Hughie! io devo fare tutte le phenomen « hochalle» con le sangue direne기를 più mire. Grazie a tutti.